Chi visita il Parco dei Dinosauri non può poi non spostarsi nell'adiacente Museo Luigi Donini per proseguire il viaggio nella preistoria ad accoglierci un enorme mammut a grandezza naturale e all'interno reperti archeologici e scenografiche ricostruzioni. Ci troviamo all'interno del Museo della Preistoria Luigi Donini. È una realtà del territorio e affronta in particolare il periodo della preistoria. Troviamo i giacimenti della Cava Filo che sono all'interno del Parco dei Gessi e qui all'interno del Museo vengono raccolti proprio i reperti provenienti da quella zona. Oltre alla sezione dedicata appunto ai fossili della Cava Filo abbiamo la sezione riguardante i reperti della preistoria dell'uomo dove si distingue un lungo ciclo del paleolitico con reperti appunto provenienti dal territorio e il museo costituisce per questo un'eccellenza nell'ambito dell'Emilia Romagna proprio per i primi ritrovamenti dei popolamenti umani. Alle mie spalle ho trovato la ricostruzione di un megacero che era un cervo preistorico e poteva avere un'ampiezza di palchi fino a 4 metri. Ho detto palchi perché appunto come i cervi le sue corna cadevano e venivano ricostruite. Un altro animale che colpisce sicuramente è il bisonte. Si è trovato molti reperti di bisonti tanto che si è riuscito a ricostruire uno scheletro quasi completo prendendo appunto ossa di vari esemplari. All'interno dell'inghiottitoio della Cava Filo dove sono stati trovati questi reperti ancora da recenti scavi vengono restituite numerose ossa. Tanto che sono state fatte diverse datazioni al radiocarbonio anche di recente proprio per riuscire a individuare meglio il periodo dell'ultimo glaciale proprio nel nostro territorio. Il percorso museale termina con un'esposizione dedicata alla civiltà del ferro e alla cultura villanoviana fino circa all'VIII secolo a.C. È una saletta dedicata ai ritrovamenti del villanoviano delle caselle e lì è stato ricostruito proprio per renderlo più accessibile anche al pubblico più giovane una capanna villanoviana e invece all'interno della saletta abbiamo le tombe dove alcune sono state proprio ricomposte e spiccano le urne cinerarie restaurate ma anche un inumato completo. iscriviti al nostro canale